Amici della rete, sono qui con Danilo Armenis e capo animazione Eden Village a Borgo del Principe, un capo animazione Obiettivo Tropici e anche una new entry direi. Danilo Armenis, ciao Danilo! Ciao Fabio, ciao a tutti i ragazzi! Oh infatti questo è un video, stiamo andando sicuramente su www.obiettivotropici.it, su team94.it, sulle pagine Facebook di Obiettivo Tropici ed è importante perché abbiamo migliaia di persone che magari ci stanno guardando e voglio presentarlo, come sta andando la stagione? Sta andando benissimo, questo è Eden Village, ci stiamo divertendo, gli ospiti sono veramente simpatici in questo villaggio, i ragazzi sono bravissimi. Punto di forza della tua equip? Il punto di forza sono gli spettacoli serali, anche avendo un palco come vedete qui alle nostre spalle, tranquillo, è un palco ovvero. Abbiamo anche il DJ che sta prontando le luci per questa sera, perché questa sera anche il Borgo del Principe per la seconda tappa del Tuca Summer Tour preparerà, non lo so, qualche chicca speciale. Un grandissimo varietà, un Chicago Night Club, quindi ambientato anni 30-40 e ci divertiremo su questo palco e poi c'è anche una festa in piscina subito dopo, Fabio. Noi siamo qui, vogliamo, riprenderemo le vostre geste. Allora, ringraziamo Danilo, più tardi conosceremo anche la sua equip di animazione fantastica, salutiamo anche tutti gli amici di Eden Village, gli ospiti infatti sono fantastici, sono rilassati, si divertono. C'è un ambiente felice. In vacanza. È un ambiente felice. Felice. Di nome di fatto. Di nome di fatto. Quindi salutiamo a tutti, ciao da Fabio, da Danilo e ci vediamo questa sera. Ciao. Ciao.